Ancora pochi giorni e sapremo chi sarà il 45esimo presidente degli Stati Uniti, ma soprattutto quale America dovremo attenderci nei prossimi quattro anni. Barack Obama contro Mitt Romney, non solo due sfidanti, ma due visioni opposte della società americana. I temi etici l'hanno fatta da padrone durante l'intera campagna elettorale. Per Obama questioni come aborto e matrimoni gay sono diritti insopprimibili. Non a caso ritiene contrario allo spirito della Costituzione il Defense on Marriage Act, la legge che legittima solamente il matrimonio tradizionale. Romney, al contrario, promette una presidenza pro-life, volendo revocare la famosa sentenza Raw vs. Wade, che dal 1973 ha legalizzato l'aborto negli USA, e opponendosi a qualsiasi riconoscimento civile delle coppie omosessuali. Questione welfare. Forte della storica riforma sanitaria avverata sotto la sua amministrazione, Obama ha parzialmente invertito la rotta, annunciando tagli per oltre 700 miliardi di dollari sulle assicurazioni mediche per gli anziani, frenando anche sull'incremento delle pensioni. Romney, dal canto suo, sembrerebbe orientato ad accantonare l'Obamacare, pur riconoscendone alcuni meriti, su tutti quello di aver concesso una polizza assicurativa anche a stipulanti in gravi condizioni di salute, e ad aumentare per tutti l'età pensionabile, riducendo gli incrementi solo per i più ricchi. Sul fronte della fiscalità, l'attuale presidente vuole tenere invariate le tasse per chi dichiara meno di 250 mila dollari e alzare le aliquote per i più ricchi. Romney, invece, vorrebbe operare interventi più incisivi per arrivare alla semplificazione del sistema fiscale e ad un taglio della tassazione che sia omogeneo per tutti. Ultima ma non ultima tra le principali questioni in ballo è la difesa. Obama ha mantenuto la promessa fatta nel 2008, chiudendo la missione militare in Iraq, avviando il graduale ritiro delle truppe dall'Afghanistan e operando una riduzione dei fondi stanziati per la difesa. Anche Romney approva il ritiro, ma continua a voler investire nell'industria bellica, proponendo di aumentare di 100 miliardi di dollari entro il 2016 il budget per la ricerca e lo sviluppo del settore. Dopo una campagna elettorale dominata sin dall'inizio, il cui esito sembrava ormai scontato, Obama è stato inaspettatamente raggiunto nei sondaggi da un Romney che, con un sapiente cambiamento della propria strategia comunicativa, ha rosicchiato in poco tempo tutto il vantaggio accumulato dal suo sfidante in questi mesi, suscitando nuovi interessi per i dibattiti delle ultime settimane. La sensazione è che, come al solito, sarà determinante il voto negli stati in bilico, i cosiddetti toss-up, quelli in cui storicamente regna l'incertezza. Hawaii e Florida su tutti. Il sistema elettorale statunitense, per come disegnato, sfugge a ogni previsione. Anche un voto in più negli stati popolosi e tutti i cosiddetti grandi elettori si spostano dall'una o dall'altra parte, determinando l'esito della sfida. Non resta che attendere. La parola alle urne.